Ci sono sicuramente tante persone che sono in qualche modo aiutate. Tu fai una trasmissione, a qualcuno dai fastidio, qualcuno ha piacere che tu parli. Quindi ci sono due piramidi. C'è una piramide di luce e una piramide del male. La piramide di luce non la conosciamo, lavora sotto traccia, ma agisce ed è assolutamente presente. Poi c'è l'altra, quella di cui parlo nei miei due volumi. Il riferimento è a queste 99 famiglie su tre livelli. C'è un livello base, un livello intermedio di 33 famiglie che sono cosiddette consiglieri. Poi c'è l'apice di 12 famiglie che sono noti come la commissione. Tutto questo sta in piedi grazie anche e soprattutto a una triade. City of London, che non è Gran Bretagna, non è Londra, è un luogo a sé stante. Washington DC, che non è Stati Uniti, è un luogo a sé stante. E città del Vaticano, dove non c'entra la fede, dove non c'entrano i cristiani. E poi c'è una parte, diciamo, occulta. Quindi una gestisce le coscienze, una la parte che è il Vaticano, una la parte finanziaria che è Londra e uno il braccio militare armato che è Washington DC. Meglio nota come Kabbalah. Quindi dobbiamo prenderne coscienza. Hanno raccontato delle favolacce un po' forti da tanti decenni. Forse devi dire da qualche secolo. Forse devi dire da qualche secolo.